Nell'estate del 1991, riprendendo un servizio già attivo negli anni 70, fu effettuato un collegamento diretto tra Milano e Dothratt. Nella stazione di Lecce, due carrozze del tipo UIC-X venivano staccate dall'espresso proveniente da Milano e fatte proseguire sino a Dothratt con un locomotore BB del MSL. Il treno usava tracce orarie dei normali servizi delle ferrovie del sud-est ed effettuava quindi tutte le fermate previste. Qui vediamo l'arrivo del convoglio ad Otranto. E, dopo alcune manovre, la partenza del locomotore verso Maglie con una rimorchata breva. ... fino... ... ...